Musica Benvenuti a Sotto le stelle d'estate, rubrica del TG News che vi terrà informati sugli eventi romani nelle serate estive. All'estate romana debutta la rassegna La cittadella del cinema, che propone la proiezione di alcuni film come il classico di Dino Risi, Il sorpasso e la commedia Juno di Jason Reitman, premio Oscar alla sceneggiatura originale e vincitore all'ultima festa del cinema di Roma. Dopo i film, una maratona di trailer italiani degli anni 60 e 70, fra cui Il deserto dei tartari, Per un pugno di dollari, Ultimo tango a Parigi e Matrimonia all'italiana. Per gli appassionati dell'opera, un evento romano imperdibile. Dal 10 luglio al 14 agosto 2008 si apre la stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma. Nel magnifico scenario delle terme di Caracalla verranno messe in scena tre opere e un balletto. Tutte eseguono il tema della passione amorosa femminile, che si vede evolvere sino alla sua espressione più drammatica. Si inizia con la prima dell'Aida, a seguire Lucia di Lame Mordi Donizzetti, Badama Butterfly di Puccini ed infine Giselle di Adolf Charles Adam. Per Estate Romana Teatro c'è Capodiavolo, la pièce di Alessandro Benvenuti. Non è un normale concerto, ma è il racconto di vita di un artista in tournée, che attraverso monologhe e dialoghi confessa al pubblico il prezzo da pagare alla vita per poter diventare quello che si vuole. Per i bambini dai 3 ai 10 anni, il Comune di Roma ripropone Wonderland, una manifestazione estiva dedicata ai libri per bambini e ragazzi. Le iniziative saranno animate da alcuni tra i più importanti editori per l'infanzia, che presenteranno le novità editoriali. Durante i pomeriggi estivi, Babbalibri, Wem Press, Gallucci, Sinos e Topipittori organizzeranno letture e incontri con autori e illustratori. Inoltre, bambini e ragazzi potranno prendere in prestito i libri dalla Biblioteca del Villaggio, organizzata in collaborazione con le Biblioteche di Roma. La novità di quest'anno è rappresentata dai picnic letterari, che permetteranno ai bambini e ai propri genitori una degustazione gratuita durante la lettura. Organizzata in collaborazione con l'assessorato all'agricoltura della Regione Lazio, la Camera di Commercio di Roma, dal 26 giugno al 31 luglio, Wonderland e la sua tribù di lettori vi aspetterà alla Casina di Raffaello, la ludoteca di Villa Borghese. Fino al 31 luglio 2008, l'architettura e arte moderna presentano un'esposizione di opere e disegni originali del fumettista Andrea Pazienza, scomparso 20 anni fa. Vengono ripercorsi gli inizi della sua carriera e della sua formazione. Cambiamo argomento e passiamo alla musica. A Roma si terrà la diciottesima edizione dei concerti nel parco fino al 28 luglio. La manifestazione romana inizia dal 30 giugno con il titolo Di qua e di là. Il concerto è stato aperto dallo scrittore Stefano Benni, accompagnato dal chitarrista Nicolás Benni. Inoltre la rassegna vedrà come protagonisti Ita Deboa e Marco Paolini con Avanti Pop, Keme Catri, Andrea Padova, i canti popolari di Lucilla Galeazzi e Francesco De Rossiret. Torna alla sesta edizione dell'evento Luglio Suona Bene 2008 alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica, organizzata dalla Fondazione Musica per Roma. Gli artisti provenienti da diverse parti del mondo offriranno concerti differenti per ogni gusto e curiosità. Nei prossimi giorni si potranno ascoltare Buena Vista, Social Club, Max Gazette, Gary Barton Quartet, After Hours, Bjork, Paul Simon, Leonard Cohen e Giovanni Allievi. Concludiamo con l'ultima notizia. Dal 25 giugno al 14 settembre al Museo di Roma in Trastevere verranno esposte le foto del grande fotoreporter abruzzese Ennio Iacobucci. 120 scatti di guerra del Vietnam che testimoniano la grande storia del Novecento e ne formano la memoria. Grazie per essere stati con noi con l'appuntamento della nostra rubrica e buonasera. Grazie per essere stati con noi con l'appuntamento della nostra rubrica e buonasera.